che cos'è la settimana santa la settimana santa è la settimana nella quale i cristiani celebrano gli eventi di fede correlati agli ultimi giorni di vita di gesù comprendenti in particolare la sua passione morte e resurrezione comprende il periodo da domenica delle palme al sabato santo che precede la pasqua cioè la domenica in cui si ricorda la resurrezione di nostro signore gesù cristo